Allora, oggi è successa una cosa. Praticamente Nicola mi ha chiamato e ha detto che voleva vedermi. Mi ha detto che si vuole trasferire a Milano e che vuole andare all'Accademia Militare. E tu cosa gli hai detto? In realtà non gli ha detto nulla, non sapevo cosa dire. Allora, io la vedo così. Nicola ti ha detto che vuole andare a Milano non perché veramente vuole andare a Milano, ma perché voleva vedere la tua reazione. Sperava che tu gli rispondessi, non partire, resta. Ma perché non me l'ha detto subito? Vabbè, perché i ragazzi devono sempre complicare tutto. In effetti. Mi sa che non ci capisci molto di ragazzi, eh? Non ho capito molto, infatti. Ecco, allora ti do un po' dei consigli. Beh. Che ne so, primo appuntamento, ecco. Come ti vesti? Con i soliti vestiti? No, ai primi appuntamenti bisogna sempre mettere qualcosa di nuovo per stupire l'altro. Ma se mi vesti in modo diverso, poi magari pensa che io sia diversa. No, perché tu rimani la stessa. Semplicemente gli fai capire che è un'occasione speciale. Appuntamento alle otto. A che ora ti presenti? Alle otto. No, allora, minimo minimo mezz'ora di ritardo. E non arrivo mai in ritardo. Eh, perché sei solo un po' precisina, invece dovresti farlo. Se un ragazzo ti fa un complimento, tu come reagisci? Grazie. Devi fare la lusingata. Che ne so, tipo, sorridigli e arricciati i capelli. Tu hai, prova. Sembrò stupida. E se lo fai così per forza. Va bene, allora senti. Che vuoi fare con Nicola? Allora, lo so. Devo. Vestermi in modo diverso. Arrivare in ritardo. E farmi una piega. Facciamo che ci dormi un po' su, eh? Forse è il caso. Va bene. Buonanotte. Buonanotte! Buonanotte!